Ehi gente, questo è il video, ben ritrovati sul lato Soulsweak del canale, quando noi siamo puntata di Elden Ring Abbiamo battuto l'ultima volta Margit, Margit, Margarita, come cavolo si chiamava? L'immortale, no, non era l'immortale, era il presagio implacabile, il presagio immortale, qualcosa del genere Non era una persona molto simpatica, anzi ha passato la maggior parte del tempo ad insultarci e... Forse verso la fine ha un po' riconosciuto la nostra abilità nel combattimento Un'altra grazia, ma ce n'è una a due metri, un'altra grazia ancora Vabbè finché c'è, finché c'è, perché non usarla? Almeno saremo ancora più vicini nel caso dovessimo morire Qui, no non posso passare Cioè, ci sono tre oggetti da raccogliere ma non posso passare Ovviamente non si spacca Ehi! Non mi sembri una persona della quale mi dovrei fidare, sai? Come va? Sì, sono un senza luce Ti sconsiglio di entrare dalla porta principale Eh, non ci riesco in ogni caso, quindi Definisci mani esperte Quale passaggio? Le guardie ignorano l'esistenza Oh Vabbè Perché il rumore di... Cioè A me sembra un truffatore Ah, qual passaggio intendi? A me sembra un truffatore Sembra un po' più Un inganno della cadrega Però in ogni caso tanto io non riesco ad aprire il portone Quindi va bene così Immagino che sia l'unica strada che posso scegliere Com'è morto questo? Se... Se è suicidato Ma fai sul serio? Becino di evocazione operativa Oh, non volevo Devo salire di qua? Eh, immagino... Oh cavolo Immagino di sì Perché quello si è suicidato? Cioè Mi è venuto proprio Una don... Perché? Perché buttarsi in quel modo? Cioè Ah! No, volevo cadere È scomodissimo il salto qui Ok Ehi Che è stato? Ehi Ah! Eh! Pensavo non ti avessi sentito, eh? Cos'era? Un'aquila che impugnava due... Che impugnava? Che... Come posso definire questa cosa che sta facendo? Che aveva due spade Ma non puoi impugnarle visto che non ha le mani Di sotto? Di sotto mi sa che posso scendere senza farmi troppo male Dipende da cosa c'è sotto Vale la pena scendere? Non credo che ne valga la pena Però ma salire piuttosto Di solito Salire Porta i maggiori benefici Che sta facendo quello? Ah! Potevo semplicemente camminare Oh! Lì c'è... Lì c'è una guardia Meno male che deve essere Non protetto questo passaggio Sherlock Holmes Tra l'editorio è bastardo Parmula lo... Ah! Ha chiamato i rinforzi Mi ha visto Via! No! Dio mio Oi! Usano... Usano attacchi di vento a distanza Ok Tutti e due morti Stavano usando gli attacchi a distanza Bastardi Ma fanno pure tanto male Fanno pure tanto male Oh di qua c'è qualcosa Runaurea Areua Oh questi sembrano cattivi Oh sì Eh sì Sembrano proprio cattivi No sono solo scritte Ma se fosse un oggetto nascosto dietro i barili Figurati Oh! Dio mio! Era una trappola? Erano esplosivi Ah no Sono loro che hanno lanciato le bombolette esplosive E hanno fatto esplodere tutti i barili esplosivi Oddio Pensavo... Pensavo di poterli cancellare l'attacco Invece ho messo su una Continuato Artigli accuminati Penso che siano Un'arma basata sulla destrezza Qui qualcuno è caduto Un deficiente è caduto Abito da popolano Perché il popolano dovrebbe avere quelle Come le chiamiamo? Manette? Come possiamo chiamarle quelle cose? Effettivamente non dà proprio niente Cioè Ah solo alle magie Magie, fulmine, fuoco Il resto fa schifo No, no, no Sto bene così, grazie Sto bene così, grazie Beh, ora mi servirebbe proprio una grazia Prima ne hai messa una dopo l'altra Ora non ce n'è neanche una Alla grande proprio Oh No Bastardi Usano i barili esplosivi per fregarmi Mi aspettano e lanciano le bombe Penso siano complici di quel tipo lì Per questo mi hanno mandato di là È un inganno Però dal portone principale non ci posso entrare Quindi in ogni caso devo fare per forza questa strada Forse c'è un modo per entrare che io non vedo Oh C'è quel posto lì nel quale non ci sono ancora andato Però adesso devo recuperare le mie cavolo di rune Mannaggia Mannaggia a me che mi sono fatto convincere da quello scemo E no, è problematica la situazione in ogni caso Oh, le mie rune Ah, avevo finito le energie Scarpe da popolano Mi stai dando tutto l'equipaggiamento del popolano? Mi vuoi dare del popolano? È proprio sbagliato Ma qui c'è una porta È chiuso a chiave Alla grande Adesso Proviamo a triggerare la bomba di quello deficiente Forza Alla grande Adesso come la mettiamo, Frank? Posto? Spero ti abbia fatto male Così impari a farmi perdere tempo Adesso c'è anche questo che è vivo Pelesemente Ciao, bello Ma è male che non ha droppato oggetti Non me la sentivo di scendere fin giù Oddio Ho appena spaccato una statua con una rotolata Di là non c'è niente Non penso neanche di poterci andare Quindi Di qua non posso andare Questa porta è aperta? Sì Ehi Che è successo? Cazzo No Mi ha semplicemente chiuso dentro Chi mi ha chiuso dietro? Chi mi ha chiuso? Ah! Oddio 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 Che altro? Mi preoccupo di fare una brutta fine Perché Mi preoccupo di fare una brutta fine perché Ah! Perché non voglio rifarmi tutta la strada Da capo Oddio 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 Sei cattivo Sei Oh Datti una calmata Madonna Mi sa che devo fare la strada strana Lì è morto Oh! Suino Mi ha spaventato Ah Oh qui c'è qualcuno che prega Peccato Zampa di gallina in salamoia argentata Buono Deve essere buono Questa sia una ricetta locale Una ricetta del post Salgo Oddio Un altro di quei Di quegli amici di prima Oh miseria Perdi in cibacco Sei aggressivo vero? Eh direi proprio di sì Ho un'idea Non mi ha visto Ah Ah mi ha visto Misera Fuori dalle palle Mi ha visto Ah Cos'era sta roba? Non sembri molto amichevole Sì vabbè Che cazzo è sta roba? Cos'è sta roba? La mia idea sarebbe di avvicinarmi il più possibile al precipizio Oh! Wow! 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 Cos'è sta roba? Ma è cattivissimo È cattivissimo È cattivissimo Ehi Playboy Una calmata Eh non riesco a spingerlo giù Non vale questa cosa che fa Non cade Dai non vale così Beh sei un avversario Temibile Lo devo ammettere Fai il salto Oh! Dio mio non pensavo mi avrebbe preso Ancora vivo? Ancora vivo! Con un HP Dammi la tua roba Dammi la tua roba Non mi ha droppato niente Sul serio Solo ho perso tempo Avrei dovuto snicarlo allora Ho solo sprecato a un polle Quale sembra un ascensore però? Come faccio a chiamarlo? Oh ce la leva Perfetto No! Il meccanismo non si muove Perché? Perché il meccanismo non si muove? Illuminami Grasso incendiario con legaccio Qui c'è un messaggio del cavolo Leggiamo un messaggio Più avanti amante Che cavolo vuol dire? Che cavolo dovrebbe significare Più avanti amante? Vediamo di salire No questo chiama i rinforzi Oh! C'era qualcuno con la balestra Che non mi ha preso Ha provato a prendermi Con scarso successo Vediamo di prenderlo Come ci arrivo fin lì? Non posso saltare qui? No non posso andare di là C'è una grazia Per cortesia Una grazia Raga datemi una grazia Questo è vivo Un fungo Ma vi droppate anche cose utili Oddio Oddio Cattivi eh Almeno c'è il recoli Quando li attacchi Ok Tutti morti Capuccio da esule Fungo Farfalla ardente Vabbè dai Apprezzo il tentativo L'impegno Lì La buona volontà Di Volermi dare qualcosa Anche se alla fine È stato un oggetto Abbastanza inutile Non c'è niente qui Ah era semplicemente Un posto inutile E che pensavo Che ci fosse un oggetto Qualcosa Vabbè dai Abbiamo trovato due rune auree Meno quel Meno quel Una consolazione cioè No non c'è niente Mannaggia Non so come arrivare Da quel tipo lì Con la balestra Non so proprio come fare Così No Come ci arrivo lì Vorrei capire come ci arrivo Oh di qua Ciao bello Allora Non fai più il figo eh Pugnale da lancio Cioè sono venuto qui Per dei pugnali da lancio Ah porca miseria No Ok Per fortuna Pensavo di essere caduto nel buco Oh Era un'armatura Ok Raga una Una grazia qualcosa Oh una grazia Perfetto Cos'è questo Mi ha dato il benvenuto Dentro casa sua Ciao Ah nuovo livello Cerchiamo di utilizzare i nostri soldi No aspetta Prima di andare avanti Eschi inventario Ho trovato delle rune Auree Che vuole utilizzare Vorrei sapere quante Quante me ne dai Utilizziamo la tre 1200 Vabbè dai due livelli Ah no 2800 Con circa 3000 No no Me ne servono altre Me ne servono altre ancora Quindi Musa selezionati Facciamo le due Tre dai Dovrebbe essere 300 600 Ok Ho fatto mali i conti Però dovrebbero bastare Nuovo livello Due di forza Ok Conferma Conferma Quanto mi dai? Un attacco in più addirittura L'apprezzo molto L'apprezzo davvero molto Intiamo il vigore Dai così facciamo un numero Tondo 100 E siamo a posto Eh vabbè però non mi da danno No voglio il danno Sono a malapena A livello 22 A malapena Qui c'è un bacino Delle vocazioni Che mi fa pensare Che ci saranno Che ci sarà un boss Ciao acula Oh Mi hanno cegato un barriere esplosivo Questa era inaspettata Questa era inaspettata Penna Pensavo mi dessi una spada Magari Sta per rifarlo Ok Oh ma che siete Dei bombardieri tedeschi Oh calmi Ai 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 Fanno malissimo Baby baby Oddio Mi hanno spaccato la difesa Ah beccatevi Prendi Ma come osi Chiudi Chiudi il becco Chiudi il becco Ok 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 Uno Due Tre E quattro Ciao bello Puoi tenerti le tue penne Non mi servono a niente Non ci faccio niente Questo Oh Infatti sapeva di trappola Stavo per dire Questo ha l'aspetto di una trappola Però mi stavo Non sapevo da dove avrebbe Da dove avrebbero lanciato la bomba Invece è stato L'aquila Però non è giusto Lei non Lei non prende danni Io devo prendere danni Dalle esplosioni Lei si è appena lanciato una bomba in faccia No Non ha subito un minimo di danno Non vale così Questo è barare Ok Camminiamo sui tetti Quando mai Un'altra runaurea In realtà due Questo è l'ufficio? Quello dove c'è la grazia? Mi pare di sì Mi sembra che sia l'ufficio No Devo continuare Sembra la zona dove si affronta il gargoyle Dove sto andando io? Mi sono di dover andare di qua invece Devo scendere giù? Oh c'è una scala qui Allora la domanda è Con chi me la prendo? Con quello più fragile? Sì Ok Bellissimo attacco Mi dispiace Frank Dovevo far fuori il tuo amico Bene Ok Adesso possiamo fare Un duello alla pare Oh Stai calmo Piaciuto? Spero proprio di no Sarà per domani Sarà per oggi Sarà per ieri Eh ma è velocissimo Questo stronzo Una volta che Una volta che si ruba la mia Il mio stamina Ha ha Una volta che si ruba il mio stamina Fa l'affondo veloce Abbastanza suino come combattente Dammi la tua spada Mi serve un'arma per difendermi Questa fa ridere E non ho intenzione di migliorare la spada iniziale Perché so che le pietre da forciatura sono sprecate contro Con la spada iniziale Una sciabola Qualcosa Qualsiasi cosa Voglio Sento Oh Questo è quello che mi ha ucciso All'inizio Ucciso? Non credo Non so se mi ha ucciso Comunque Quello che mi ha battuto all'inizio Com'è che si chiamava già? Esule Oh Esule errante Ho provato a saltare Ma non ha funzionato Qualcosa tipo esule errante Qualcosa del genere Ah ma si diverte ad appendere Le mani Dei suoi Strano Strano modo per divertirti Frank E vedo che si diverte Molto con la lunghezza Più che Con la qualità E la freschezza Della carne Oddio Qui hanno ucciso un gigante Ah qui è pieno di cani Che stanno mangiando Dei Schifo No 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 Quello con l'alabarda Mi fa paura No Cosa dovrebbe essere Sta roba No Oh Piano B Piano B Ciao bello Ci vediamo nel prossimo video Vediamo sto forziere Velo Mimetico No 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 Non ho intenzione di affrontarti Non con così Oddio mio No No e qui c'è l'esule errante No Mi sono infilato in un casino Carne pregiata Oh è arrivato È arrivato È arrivato Via Via Frank Quella porta è chiusa? Se è chiusa sono finito Ok Dai raga Datemi Datemi una cavolo di Grazia Non credo Ci deve essere qui da qualche parte una grazia Non credo che mi farebbero fare tutta sta strada inutilmente C'era un'altra zona che non ho esplorato prima Se non sbaglio Lì molto probabilmente c'era una grazia Molto probabilmente Ah Oh è morto No Ha preso solo danni Qua non ho controllato Dimmi che c'è una grazia Frank Oh è una chiesa Ragazzi avete visto qualche grazia nei paraggi? Molto forte Da parte tua Sei fortunato che la La mia Il mio attacco è rimbalzato contro il muro Dov'è? Ma grazie ragazzi dai Una grazietta Piccola piccola Dove rifocillarmi Dove mangiare Oh Che cosa è questa cosa? Chi sei tu? Piacere di conoscerti Mi chiamo Roger Sono uno stregone Come avrai intuito Beh ti vesti in maniera particolare devo dire Sto cercando qualcosa Qui nel castello Quando non sono impegnato a fuggire dai soldati Quanto meno Non lo so onestamente Brulica di cacciatori di senza luce Imulano il loro sangue Ah il nostro sangue Quindi anche a lui è un senza Senza luce Sconfiggerò Godric Credo No non è bello Perché tu non la vedi più? Sono anche io un senza luce Lo immaginao Ho visto niente Niente hide Niente hair Di questa guidanza Per il lungo tempo Ah Sto Non mi ricordo Come si sentiva Quando mi prima Veniva Qui Alla Lanz Bittu Ok Tante magie Spade Tra nervi Corossali Questo è Ciottolo Di scintipietra Non saprei Onestamente Non saprei proprio Ah si Impariamo questa Dai Impariamo quella Tanto un incantesimo Lo devo imparare Quello mi sembrava Un'abilità distanziata Ma la grazia Scusa Una grazia Niente grazia Mannaggia 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 Perché affrontare Quelcoso con Cosa Con 30 di HP Non ho proprio Non me la vedo Proprio Bene Ma questo è morto Io più che Più che trovarmi Piuttosto che trovarmi Dalle sorprese Poco piacevole Li faccio fuori Prima ancora Di Incontrarli Prima ancora Che loro Mi aggrediscano Oddio Ma fai Ma fai il bravo Dai Non rompere le scatole Ok Vediamo Dove posso andare Oddio No no Sono amichevole Oh Dio Dio mio Dio mio Non ho neanche visto l'attacco Cioè Proprio Quindi adesso Ho equipaggiato La mia abilità speciale Perciò Proviamola No No aspetta così Cos'è sta puzzetta Cos'è sta puzzetta Cioè consuma un bordello di Ma fa danni scusami Fa 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 Un po' di danni Fa Dei semi danni Non ho più Energia Non ho più Energia Ok Vabbè Io me la Correre Ok Correre Non aiuta Molto Non aiuta Molto Correre Ma fai il bravo Dai non rompere le scatole Ho dovuto già usare Tutte le mie ampolle Ah Adesso devo farmi Tutta la strada Perché non trovo grazie Ok Ok Wee Chissà per quanto mi seguono Ah Qualcuno è morto Ma non ho capito chi Penso sia un'aquila Ma non ho capito com'è morta Godo Però godo Posso saltare qua Posso saltare come Non mi ha visto vero Finchè non mi ha visto Penso che sia amichevole Quella roba Forse Oddio i cani Hanno tantissima vita Più di quanta Me ne aspettassi Oh Qualcuno è più grosso Oh No Perché non hai fatto L'attacco critico Oh Madonna mia Chi è arrabbiato Chi è che sta spaccando tutto qua Pro memoria delle crisalidi È un oggetto chiave A cosa serve Non lo so Comunque Pesa di più Non importa Me lo metto Questo da Qualcosa in più Per lo stesso peso Quindi Va bene così Questo Scarpe da popolano Non te le puoi tenere Ho trovato qualcosa che Non so cosa serve Vabbè Ora c'ho il cappuccio D'esule E ho pochissima vita No no Non fare caso a me Non fai caso a me Vero No non sta facendo caso a me Questo è l'ascensore Dubito che tu possa attraversare Le porte Sei troppo grande Anche la tua barra della vita È grande Penso sia collegata Alle dimensioni Ok lì c'è una nebbia Che vuol dire che Attraversandolo Farò una brutta fine Pietra da forgiatura Funerea Quindi è di qualità superiore Bastardo Che non sei altro Dai raga Datemi una cavolo di Una cavolo di grazia Ti vuoi fregare ragazzi Considerando la vita che ho Figurati se non sono paranoico Neanche una grazia Stai scherzando Le frecce mi devi dare Le frecce Lì è pieno di nemici E tu mi dai le frecce Ma stai scherzando Ah ok sono tornato Ok ho capito Che è successo Oh cavolo Non sembra proprio Un posto sicuro Non sembra affatto Un posto sicuro Beh Recuperiamo le nostre rune Le nostre cento E passarune Alla miseria Oddio mio Oddio mio Oddio mio Non ci arrivo Con un salto Di sicuro Andiamo verso la nebbia Che devo fare Di qua posso saltare Sì Intanto facciamo fuori questo Che sembra molto simpatico Oddio mio Non mi troppi niente Bastardo Chi è morto? Chi è morto? E dovrei andare di là Penso che quello Mi lancerà una bomba Se No Da Succhia Ah non posso andare Devo utilizzare Oh sì Usare la chiave Della spada di pietra No Penso che sia Molto importante Come oggetto Questo sembra Sembra pronto Ad attaccarmi Via 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 Non sono pronto Ad affrontarti Voglio una grazia Nei paraggi almeno Senza grazia Nei paraggi Non ti affronterò mai Oh no Quelli hanno le balestre esplosive Oh sì Sono balestre esplosive Sono proprio Balestre esplosive Oddio mio Sembrano tutti molto arrabbiati Beh E qui sulla scala Me sto già perdendo Madonna Ok Qui sono al sicuro Credo Ah ah Sarà per domani ragazzi Ragazzi dai Affrontatemi Alla pari Questo non è alla pari Questo è fare i furbi Dovete salire per le scale Forza E voi non avete uno scudo Volete battermi Dammi una spada Un fungo Grazie Dai Molto gentile Lo apprezzo Ah questo è vivo Dal dimensione Saperebbe avere un asce Ok Preccio incendiare Vabbè Grazie Lo apprezzo Scherzo Non lo apprezzo per niente Cosa Mi hai tirato Mi hai tirato un calcio Ma stai scherzando Ok Ok Uno per volta Gli uccido tutti Perché magari mi droppano La loro armatura Perché ho visto che comunque È più forte Ci ho notato Che è più forte Picca La picca è un'arma Oddio È furbo Beh Proseguiamo Oh no Quello sembra molto cattivo Quello sembra molto cattivo Ma se non mi vede Non se la prenderà con me Vero Invocare altri giocatori No grazie Voglio solo salvare Voglio solo salvare la partita E poi vedere che cos'è quello Grazie Alla grande Ah Grazie a perduta Meno male Finalmente Stavo smettendo di crederci Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti